Ai contorni ancora tutti da chiarire, la tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di oggi all'interno del nuovo porto d'Imperia. A perdere la vita è stato Gianni Previato, di neanche 30 anni, recuperato sul fondale della Prodo dopo una quarto d'ora di ricerche frenetiche. Erano da poco passate le 15 quando il giovane, insieme ad un collega, entrambi della Marina Sub Service, si trovavano a bordo del loro gommone. A questo punto è accaduto qualcosa su cui c'è ancora un punto interrogativo. Sta di fatto che i due sono improvvisamente finiti in acqua. Gianni Previato, che indossava due stivali da lavoro, che potrebbero averlo appesantito, è finito sul fondo, mentre il collega, che aveva una muta da subacqueo, è rimasto a galla. Da terra si sono subito accorti che qualcosa era successo dopo aver visto il gommone finito sotto uno dei moli, tanto da rimanerne lesionato. È così scattato l'allarme ed è stato subito recuperato il sub, il quale, in evidente stato di shock, ha detto di aver sentito un forte botto e di essersi trovato in mare, ma non ricordava più nulla. È stato poi subito trasferito in ospedale per una ferita che aveva riportato ad una gamba. Intanto sono iniziate le ricerche del giovane, che è stato individuato solo dopo circa una quarto d'ora a cinque metri di profondità. Riportato in banchina, gli è stato subito praticato un massaggio cardiaco per mezz'ora, ma purtroppo per lui non c'era già più nulla da fare. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto e di Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. I due potrebbero essere finiti in mare in seguito ad un forte colpo di vento, viste le cattive condizioni di oggi, oppure dopo l'impatto con qualcosa. Gianni Previato potrebbe essere morto annegato a causa degli stivali, che una volta pieni d'acqua potrebbero essersi appesantiti e gli avrebbero impedito di rimanere a galla. Ma questa è solo una prima ipotesi. Solo l'autopsia che potrà essere disposta e la testimonianza del sub ferito potranno infatti chiarire questa vicenda. Quella che rimane è l'incredulità per una tragedia che è difficile da accettare.